Il 71% di raccolta differenziata è il risultato ottenuto dal comune di Fano, un dato che permetterà di ridurre l'ecotassa di 160.000 euro e quindi del 50%. Il presidente di Aset Spalucci a Capodagli ha illustrato questa mattina, assieme ai tecnici, il resoconto di tutti i comuni soci dove l'azienda fornisce il servizio. San Costanzo si conferma il comune più virtuoso con il 75%, seguito a poca distanza dal 73% di Sant'Ippolito, Mondavio e Saltara e da Monteporzo con il 72%. Ottimi i risultati del 71% per il comune di Montemaggiore, Cartoceto e Monte Felcino. Serrungarina invece con il 70%. Una notazione a parte va fatta per Fano, che a meno di un anno dalla copertura integrale del territorio comunale ha già raggiunto e consolidato un risultato eccellente. Vista la sua vastità. A seguire con percentuali levemente inferiori i comuni di Fossombrone e di Isola del Piano. Sicuramente molto presto l'elenco potrà annoverare anche Pergola, dove il servizio di raccolta differenziata ha avuto inizio i primi giorni di gennaio. Nel 2014 sono stati smaltiti nella discarica di Monte Schiantello 41.000 tonnellate di rifiuti, di cui 18.900 provenienti da Fano. Di questi 6.000 provengono dalle spiagge a causa soprattutto delle forti mareggiate estive, mentre 1.700 sono i fanghi che arrivano dal porto. Un buon risultato, visto che sei anni fa erano oltre 35.000 quelli che andavano in smaltimento. Una soddisfazione che deve essere condivisa da tutti gli utenti, i cittadini di Fano e di tutti gli altri territori da noi serviti, in quanto abbiamo raggiunto degli ottimi risultati di raccolta differenziata sull'anno 2014. Continuerete anche con il lavoro di informazione? Sì, è stato già distribuito a Natale, durante il periodo natalizio, il nostro organo ufficiale. E poi avremo uno spazio su Fano Stampa dove inseriremo i nuovi contenuti, eventuali suggerimenti. E chiaramente i nostri centralini sono disponibili per richieste da parte degli utenti. Tra gli obiettivi dell'azienda l'apertura di un nuovo centro di raccolta in zona Laghi a Calcinelli, per agevolare così tutta la vallata con un servizio più vicino agli utenti. Verranno portate inoltre migliorie nel centro storico di Fano, modificando gli orari per la raccolta, in modo tale che il personale non intervenga mentre i ristoranti servono i pasti fuori dai locali. Per i trasgressori poi la Capodaglia ha ricordato che per chi non effettua correttamente la raccolta differenziata, sono previste multe dai 50 ai 600 euro, fino ad una denuncia penale e all'arresto nel caso di smaltimento irregolare di rifiuti pericolosi, come lubrificanti o batterie delle vetture. I tecnici comunque hanno notato un maggiore impegno da parte della cittadinanza, ma con più informazione e con investimenti adeguati i risultati potrebbero migliorare ulteriormente. È stata effettuata un'analisi sui rifiuti conferiti in discarica, quali sono gli esiti? Noi periodicamente facciamo delle analisi inbergeologiche sul rifiuto tal quale che viene conferito. I risultati sono stati, l'ultima è stata effettuata nell'ottobre 2014, sono stati tali che il risultato che il rifiuto urbano biodegradabile, cioè ancora la sostanza umida che è andata a finire in discarica, è inferiore agli 81 kg ad abitante anno, il che significa che l'obiettivo posto dalle normative per il 2018 è stato raggiunto con notevole anticipo. Durante la conferenza ha detto che comunque si potrebbe fare di più? Si può fare di più perché sempre dalle analisi merceologiche risulta che ancora il rifiuto che viene conferito in discarica, in questo rifiuto sono presenti materiali che potrebbero essere ulteriormente differenziati. Quindi ancora c'è dell'umido, ancora c'è della plastica, ancora c'è della carta in notevole quantità.